Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono la Kiruz e questo è il mio nuovo video! E' un video fantastico, mi piace un sacco e spero vi piaccia anche a voi perché questo video veramente parlerà di cose molto strong, molto interesting e quindi partiamo subito con il video. Prima di partire in quinta devo assolutamente menzionare le prime 5 pagine che fanno parte del contest. Allora la prima pagina è What a lovely study, è una pagina dedicata allo studio, l'admin è molto molto carina quindi io vi consiglio di andare a spulciare. Seconda pagina che si intitola Bonjour & Chocolate, questa pagina è molto colorata, molto carina, molto organizzata, è veramente dolcissima, una pagina dolce ecco come il nome. Terza pagina è Viaggiando nello studio, se siete degli amanti dello studio come me, che facciate l'università, che facciate le scuole superiori, andate subito a vedere i suoi post perché è una bomba di... La quarta pagina è Study with F&J, questa pagina mi è piaciuta un sacco perché non è da tutti avere una pagina condivisa da due persone, quindi ci sono due admin e questi due admin parlano della loro vita universitaria e ovviamente anche della loro vita quotidiana affrontando l'università. Quinta pagina è Study by Keiki, che è la pagina dedicata allo studio universitario di ingegneria perché questa ragazza ho scoperto che veniva a fare l'università con me, cioè faceva ingegneria con me e io non sapevo, tipo mi ha scritto e mi fa Ma tu facciamo ingegneria? Io sì, anch'io, ma eri conto? E io no, non ci credo, eravamo in corso insieme, veramente, cioè fantastico. Partiamo con l'argomento però fondamentale di questo video che è il giudizio delle persone. Non sto dicendo che nessuno di noi, anche i più bravi, non giudicano perché la società a volte è la stessa che ci induce a giudicare, a porre dei giudizi, ma... Ci sono i giudizi che vengono dati perché non si conosce una persona, perché si vedono delle cose, si hanno le informazioni abbastanza sufficienti da poter formulare un giudizio. Poi c'è quella categoria di persone che giudica perché ha voglia di giudicare, però proprio c'è la smagna di giudicare. Purtroppo puoi essere anche un bellissimo ragazzo, un bellissimo ragazzo, ma se hai quella parte del carattere che è sempre di pronta a dare giudizi negativi, a mettere commenti sgradevoli, a porre una parola cattiva, diventi a tua volta quello che descrivi. Io, fin da quando sono piccola, sono sempre stata giudicata perché sono quella strana, quella che magari è molto estroversa, che gli piace sempre cose nuove, magari essere pazzerella, cantare a squarciagola, perché magari, non so, se ne frega. E purtroppo questa cosa non è ben vista. Perché quando ero piccola, ad esempio, prendiamo le elementari, che sono stati gli anni per me peggiori. La cosa che a me ha fatto più male è vedere che io magari ero una bambina, quindi volevo giocare, volevo mangiare, perché chi è che me lo toglie a pagare una nutella alle tre del pomeriggio? Cioè ragazzi, ma che stiamo a dire? Per quella categoria di persone che giudicano così a random, c'è da dire che rosicano un sacco. Io non so se le avete mai notate, ma rosicano un sacco. E rosicano così tanto che hanno proprio quel bruciole di culo che fa paura. Cioè io mi stupisco che non gli siano venute fuori ancora le morroi di crosce così. Perché ci hanno, veramente, rosicano. E invece di mettersi, di spalmarsi una pomata per gli usignoli propri, in modo molto romantico, ho detto in modo molto romantico, no. Rosicano ancora di più e quindi gli emorroidi mentano. E aumentando gli emorroidi tu a un certo punto dici wow wow wow, non riesci più a distinguere qual è la faccia da quale è il culo. Poi ci sono gli insulti di alta classe, perché quelli sono i più validi. No 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 ma amo, l'hai vista? Ma come si veste? Oddio ma quell'amore non ha mai visto un parrucchio di vita sua? Oh amo, no ma tesoro, oh Gesù, signore. Dove vestire? Mi piace andare vestita a gommitrati. Quindi sì, fra un po' mi intendo andare in giro con un sacco di patate. Quindi vedrete, andranno di moda i sacchi di patate. E poi sto a mo' te so' cio' 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 cio'. Ma lo vuoi un pugno in faccia? Con questo io ho terminato il video. Spero che abbiate capito il senso di quello che volevo dire. Ho cercato di essere un po' più simpatica del solito perché capisco che sia un discorso molto pesante. E ci saranno sicuramente altri modi e altri video per parlare in modo magari molto più serio e ridurre magari l'argomento a qualcosa di più specifico. Quindi se l'argomento vi è piaciuto, se questa tipologia di video vi piaccia fatemelo sapere nei commenti o scrivetemi in direct cosa ne pensate e magari cerchiamo anche di creare un dibattito perché voglio veramente capire cosa ne pensate voi che mi seguite. In più voglio ringraziarvi tantissimo perché il canale sta continuando a crescere quindi sì, sono contentissima, è happy! E quindi niente, mi scuso per questa tenuta da barbona però purtroppo sono in tenuta studio e non vi posso farlo della mia scrivania perché così da... io vi rimando al prossimo mio video, vi ricordo che se siete nuovi iscrivetevi al canale lasciatemi un mi piace e attivate le notifichine perché così se siete una pagina che è stata ripostata potete vedere subito in diretta, proprio appena sfornato il video e fammi sapere cosa ne pensate. quindi vi lascio un grosso bacio, un grande smack e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!